Ciao ragazzi, siamo qui con un altro video sempre uguale a quell'altro, ma con squadre diverse Oggi siamo qui con Lazio-Roma aggiornate Che ne dici di questa Lazio che non ha comprato quasi nessuna? Solo due Però abbiamo messo ovviamente gli accostati La Roma invece ha tipo 500 accostati Non mi scrivete nei commenti che nessuno andrà alla Roma Lo sappiamo benissimo, però sappiamo anche che ci sono accostati E quindi dobbiamo metterli per forza, perché così è la serie Andiamo in gestione squadra, facciamoli bene Vediamo un attimo la squadra Maiorà il titolare, perché purtroppo Ceco si dice che andrà all'Inter e roba così, forse Qua c'è Kostic per sostituire Ghanemaruzi A parte che questo modulo non rispecchia per niente Sarri Quindi mettiamo il modulo di Sarri Allora, alla Roma sono stati accostati ultimamente Zambo Anghissa, a parte che Zaniolo lì non lo puoi mettere È stato accostato Zambo Anghissa È stato accostato Dendonca Fai vedere Dendonca, Shumuru dove è arrivato Sono stati accostati questi Zaniolo lo lascia in panca Almeno mettila in ponchina Invece alla Lazio Isai Costi C'è accostato, Isai è arrivato Filippo Andres è arrivato E ci dice che se ne va Luisa Alberto Perché si sono picchiati tutti Hanno fatto una risa incredibile Sparatoria Una sparatoria incredibile Gli ha coltellato la sorella E quindi Ma come? E quindi se ne andrà Eccoci qui, eccoci qui Mamma mia che bello ciruzzo Fantasticoso con le mesh Si comincia Forza Isai Fai segno idolo Sparatoria Sparatoria No, iniziamo bene Cazzola Ma Ciazola è morto Esatto Dovevo toglierlo Ma che schifo Ma si vedo che è morto C'è grano Vigna ragazzi Se mi scrivete che La Roma prende Vigna Terzino-sinistro Sappiate già Che non esiste Che non esiste Su questo gioco Quindi spiazza per lui Quindi Spinazzola Anche da infortunato Gioca Esatto si vede già Dal passaggio che ha fatto prima Parolone Parolone No, ti dice tante parolone 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 Come in posta Come in posta Parolone Mamma mia Come in posta Parolone Mamma mia Porca cacca Sf Dai Cosa Vorrei Per unire Qualche bestemmi Vai figlio di Manu Dicino Figura Ma stiamo scherziamo Ma è Manu Cos'è Manu Sicuro Non so Tirarne i rigori Io non so Pararti Nesta era Quello là Hanno messo Uno striscione Ciuuu Reina Con la pelata Lucente Ma perché Grande bro Riparti Peccato che non c'è Correa Perché è molto veloce Su questo gioco Perché costi C'è lento Guarda Perché costi C'è lento No è fuori gioco Sbagliato Borca Con cazzo Mai gol o fuori gioco Quindi Gol Guarda Non fischia E si go No si go è un cazzo Perché era campo aperto Io pensavo che fosse fuori gioco Anch'io Però vabbè Sono rimasto un po' così Non abbiamo detto niente Per un gol Però Ok Dai corri Che cazzo sei Dai Oddio Come lo supera Che cazzo fai Tira Tira Il dicappato Dai Finazzola Senza tre gambe Dai paro Dai paro Dai paro Cos'è Favore gioco Cos'è fallo Favore gioco Che cazzo ne so io Ma che è Tutti a parte Come C'ha La pepe Io non lo so No Questa doveva entrare Pelegrini Che cazzo fai Ma Oddio Santo Che alto Ma cosa stai facendo È una giocata fuori dagli schemi Giusto Ovviamente Dai cazzo Però Ma tu terzino destro Chi hai Hanno confermato che Florenzi Se ne va Ah In Cardos Ok Che cazzo ho detto Che Che Redder Cazzo Perfetto Perfetto Adios E D E Che Bravi Patricio Bucato E Bancaccio E Bugato Bugato Bucato Tu Parolone 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 Ma che è Ma che è Non mi ha Per noi Parolone Ma le aperture Più grandi No 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 Grande grande parola parola idoli sformiciata ma sembra che vuole spazzare qua invece di fare gol vabbè vediamo cosa fa grandi campioni in questo sport ma che cazzo di colla è qua muti che piedi ma non hai neanche i piedi con cosa hai tirato con le mani che voce di merda grazie grazie mille no cosa hai fatto non l'ho fatta posta ma come è scappato il triangolo ma dai è incredibile morite tutti quanti giocatori e merda però adesso se vinci tu io faccio proprio boccare mamma mia incontenibile ciro muori parolone non può fare due gol parololo dicio già non fa niente ma vai 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 roba in qualità rivediamo rivediamo che gesto atletico non sa neanche lui come ha fatto però dai quanta cosa signori quanto cosa ma dove vai mamma mia calcio champagne ma in tangenziale calcio tavernello per nostra è nostra che chi mette a battere la madonna scende l'acqua mi dice cosa perché ti dico di tanti testi minori ok ma ecco appunto per l'appunto niente si allenava ai supplementari o rigori no no perché io li faccio sboccare ragazzi l'ultima volta abbiamo fattito è stata faccia i supplementari sarei stato meglio forse di un lingo però troppe bestemmi da c'è in superare poi a new world in gold ragazzi questa partita veramente incredibile e io la vincerò il tra ieri da sto così no se stai sotto non ti si vede ma sarà un'altra contro di un vento ma dai si butta mezz'ora prima mamma mia che gol che gol ma si butta mezz'ora prima intanto fate l'azione più bella di fifa e guarda cosa dove vanno risulta guarda guarda ripartissimo guarda ripartissimo intanto potete tirare con lazari e invece aspetta guarda ripartissimo quando si butta analizziamo questo campo si ha fatto una papera in amichevole ieri no ma se vuoi capire che portierone che roba e qualità ma la mamma mia che mamma mia è morta è speruto calo di zuccheri grande lei va per tutti quelli che ti sottovalutano pippone di allora io cambio calcedo al posto di mani io faccio un cambio della formazione un po' azzardata hackpa hack pro oh no quello mi fa gol patrick come quello no no adesso l'hai detto no veramente per il meme metto un bel c'è ma porca no pure per il cambio c'è hackpa hack pro al posto di milinkovic patrick al posto di radu il primo ma sei fermo sei autoranno ma sei tu la roba no ma ero così no vabbè no ma taglia 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 è tornato in vita ho visto l'apertura perfetta per costi come dice per guarda io non doco più acquista nel bar ah no vai attenzione per i gol akpa akpa akpro 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 gopro di akpa akpro poporo 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 nooo questo che devo fare devo tagliare e censurare blurare i video te l'avevo detto no hai vinto dai no cazzo ragazzi no lui non sta parlando più non dice più niente silenzio bruno si chiama bruno lui silenzio bruno com'è il film silenzio bruno la presa alla lettera lui quindi incredibile 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 con quante b incredibil io il pecorone hai vinto ha passato un coglione però abbiamo vinto veramente quando reina si è fatto quell'autogol temevo di perderla 4-3 partita incredibile 19 tiri a 11 quindi ragazzi ho vinto anche oggi godo come un riccio quindi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ciao